Ok, potete entrare, state attenti, questa è la linea. Tutti, prima o poi, nella vita, abbiamo incontrato il maestro. E il maestro ti forma, ti inquadra, ti esalta, ti mortifica. Il maestro ti schiude una prospettiva, ti apre un orizzonte. Non è facile insegnare. Siete strane creature. Arrivate, non si sa bene da dove. Sì. E quando arrivate, non sapete fare niente. Burlate, mangiate, fate cacca, fate pipì. Poi, ad un certo punto, cominciate a camminare. Cominciate a parlare. E non vi fermate più. Già, non c'è modo di farvi stare zitti, non c'è modo di farvi stare fermi. Perché voi bambini, voi bambini vi annoiate. La cosa più difficile è far nascere dentro di voi la passione, la scintilla. Lezione pasta di nuvole, con le nuvole, per le nuvole. Perché un bambino come voi dovrebbe andare a vedere un'opera d'arte? Ma che cosa vi interessa? Direi che probabilmente è semplicemente una questione di colore delle nuvole. Maestra? Sì, Margherita. Ma quindi, tu ci hai addomesticati? Sì, diciamo che sì, quantomeno ci ho provato. Perché, sai Margherita, non è facile. Bisogna avere tempo, pazienza e bisogna volerlo in due. Maestra, ma allora, quando noi andremo alle mie, tu piangerai? Sì, forse sì, forse piangerò. Ma maestra, allora, cosa ci guadagni? Cosa ci guadagno? Ciao. Io? Io? Io sicuramente ci guadagno il colore delle nuvole. Cosa ci guadagno il colore delle nuvole. Cosa ci guadagno?